Avanti a pugni chiusi, il nuovo singolo di Francesca Alotta che ha scelto Urbino per girare il video insieme a Ivan Cottini, insieme alle ragazze della Chorus di Urbino guidate da Bianca Maria Berardi, insieme alle contrade di Urbino ha girato molti dei luoghi del centro della città e alcune immagini sono state girate anche nella suggestiva location di Fortezza Albornoz. Allora ho scelto questa location in base al fatto che io sono innamorata di Ivan Cottini perché per me rappresenta un modello, cioè un modello di vita, un maestro di vita e come me anch'io ho vissuto un momento difficile della mia vita e ho scritto questa canzone sia il testo che la musica ed è un invito proprio a non abbandonare mai, a non avere paura, ad affrontare le problematiche, avere il coraggio di guardare sempre avanti nonostante le difficoltà, la voglia sempre di combattere. Pensa che io mi ero buttata un po' giù perché ho detto oddio il tempo, lui ha detto vabbè sotto la pioggia, Ivan ha detto sotto la pioggia è ancora più bello, ecco lui è così. Ed è il mio maestro di vita e quindi volevo essere qui. Però appunto Urbino è splendida e mi sono innamorata di Urbino anche perché qua è la patria proprio di Aquiloni. E cosa c'è di più gioioso della vita, un inno alla gioia, alla vita proprio sono gli Aquiloni. Volare alto, sempre più in alto. E questo è il messaggio che volevo dare. Avanti a pugni chiusi significa proprio avere sempre la forza di non abbandonarsi mai, di avere sempre il coraggio di ricominciare, di rinascere dalle proprie sceneri. Ivan, Francesca è voluta venire qua per vederti, ci tenevo ad averti in questo video. Cosa si prova a ballare e soprattutto a lanciare questo messaggio di speranza che è proprio la base di questa canzone? A me a parte che Francesca io la amo e sono contento che è rimasta innamorata oltre di me ma anche della città di Urbino e ha voluto condividere assieme a me e alla popolazione di Urbino tutte le contrate, questo messaggio forte che vuole portare in questo suo nuovo singolo a pugni chiusi che comunque è una storia di forza e resilienza e non poteva che non nascere qui in Urbino. Diciamo che il signorino poteva essere un pochino più clemente col tempo perché sembra di stare in pieno novembre, c'è un'umidità da puro, io che ballo da per terra, c'è un'umidità che mi è entrata anche fino a dentro le mutande e qui mi fermo. Comunque tutto sommato sembra che la stiamo riportando a casa nonostante il tempo non è dalla nostra. Poi una bellissima collaborazione con le ragazze della Corus, tante le persone che si sono inserite, con le contrade, un lavoro di squadra veramente grande. Guarda qui non si finirebbe di ringraziare tutti, tra tutte le contrade, l'amministrazione comunale, il corpo dei vigili municipali, le ragazze di Bianca di Danza, tutte le persone fantastiche si sono subito e messi in prima linea e non hanno avuto problemi nel mettersi qua su questa mattina alla Fortenza. Bianca oggi alcune delle tue ragazze con altre persone hanno ballato qui in Fortezza per un messaggio veramente unico, un'iniziativa importante, la danza è anche questo. La danza è anche questo, hai detto proprio bene perché quando c'è l'arte, l'arte è tutto, cantare, danzare, recitare. Francesca è una grande artista che ha voluto veramente scegliere Urbino come meta per questo video che la lancerà di nuovo, è una grande artista. Le mie ragazze con la loro arte hanno dato un po' di colore, di brio a quello che è il messaggio che Francesca vuole dare, cioè il fatto di non arrendersi mai, di continuare perché la vetta è lontana ma ci si arriva. Non solo Contradaiola ma anche un aiuto per quanto riguarda questo balletto, per questo flash mob e per questa occasione speciale. Esatto, oggi facevo le veci di Bianca Maria Berardi della scuola Chorus, quindi ho le vesti da Contradaiola ma in realtà ero una ballerina, in realtà coordinavo un po' tutto il videoclip ed è stata una bellissima esperienza, fortuna il tempo che ha retto, quindi sì è stato bello, poi siamo riusciti comunque anche a prendere altre persone che erano qui, turisti, quindi è stato molto bello, una bella esperienza e sono stata contenta poi di aver ballato con Ivan, con Sofia e anche con la cantante, fantastico. L'associazione delle Contrade di Urbino oggi in fortezza Albornoz per far volare gli Aquiloni con Francesca Alotta e il suo nuovo video. Sì, l'associazione ha deciso di partecipare con entusiasmo sia per l'iniziativa sia per promuovere l'anquidone che è uno degli obiettivi fondamentali. Quindi anche questa occasione del video della cantante Francesca Alotta è stato un modo di condividere un'esperienza anche con un messaggio molto importante, visto l'obiettivo di far capire che si può volare comunque anche nella difficoltà. E oggi c'era anche poco vento, quindi abbiamo volato uguale.